A Rialmonte è successo per lo spettacolo 30 anni di Costa Bianca al teatro di Caporossello con protagonisti numerosi artisti agrigentini. La serrata condotta da Nanescio Ortino e con la direzione artistica di Marco Gallo ha inaugurato le manifestazioni del cartellone estate Costa Bianca 2024. Ascoltiamo il sindaco Sabrina Latuca e poi Angelo Cinque che presenta lo spettacolo che si svolgerà questa sera al teatro Costa Bianca la giara dalla novella di Pirandello. Si parte dopo un'attività di restyling di parti non strutturali del teatro questa sera l'apertura di Costa Bianca 2024 con un teatro sicuro riconsegnato che garantisce non solo gli addetti ai lavori ma anche gli utenti. Io sono molto soddisfatta perché questi obiettivi arrivano grazie a una intensa attività che ci ha visti impegnati ogni giorno e da diversi mesi. Si apre appunto con Nanescio Ortino, è un compleanno lui diceva e poco anzi infatti è il trentennale di questo teatro. La domanda che è stata posta al primo cittadino è stata quella ma cosa immagini tu per il futuro? Bene io per il futuro immagino in un territorio che ha visto già in pochi anni una crescita in termini socioculturali ed economici dopo un periodo di pandemia cosa mi auguro? Mi auguro ho detto che tra trent'anni di vedere un canta storie quindi l'identità e un giovane direttore artistico quindi un ragazzo che scommette sul futuro. A noi cosa rimane? La responsabilità, la responsabilità di gettare le basi per una crescita reale vera che è una crescita che passi attraverso la bellezza lo diciamo sempre ma che soprattutto riparta da una squadra. Sicuramente stasera è uno spettacolo da vedere perché è un'inedita giara, avremo pure il Valdagragas quindi ci sarà musicalità ed è qualche cosa di particolare perché c'è un adattamento che dà un'anima a un burbero Don Lollò. Poi saremo nella rassegna al caos, caos Pirandello, proprio la rassegna intitolata Pirandello al caos il cui spettacolo il primo inizia giorno 2 Mario Sorbello col Berretto Sanagli, poi ci sarà una replica della giara che stiamo portando e poi l'ultima verrà fatta, io non sono pazzo, il treno che ha fischiato e la patente pure di Mario Sorbello. E infine speriamo di vederci tutti al Teatro dell'Efebo il giorno 17 dove portiamo la verità e diciamo che è impostata per me secondo me la novella più pregnante, quella da cui è stato tratto anche il Berretto Sanagli ed è una novella da vedere perché noi l'abbiamo impostata in una lezio magistrale in cui c'è tutto Pirandello e spero che sia di gradimento di chi verrà ad assistere. Quindi stasera appuntamento a che ora? Appuntamento alle 21, si inizierà sempre qualche quarto d'ora, 20 minuti dopo perché si sa Real Monde la gente arriva sempre con qualche minuto di ritardo, però spero che lo spettacolo piaccia perché è molto brillante e diamo anche un messaggio su quella che è la situazione attuale a livello di guerra, violenza o altro per cui nei nostri spettacoli la Concordia ha sempre mandato un messaggio particolare su tematiche che non interessano il teatro come recitazione ma interessano il teatro come messaggio da dare a chi viene ad assistere.